Bello e avvincente, ben interpretato dalle due contendenti, caratterizzato a tratti anche da un calcio di pregevole fattura. Non ha tradito le attese della vigilia, insomma, il big match del campionato nazionale juniors tra Fidelisandri e Brindisi, anteprima del derby tra le due squadre, in programma mercoledì prossimo al Famuzzi. È stata gara vera quella data in scena sul Palato del Degli Ulivi, merito di due squadre che si sono affrontate senza alcun timore reverenziale e hanno dimostrato di meritare la qualificazione ai playoff, obiettivo che era e resta alla portata sia dei biancazzurri di Antonio Nanni che dell'undici in Messapico. È finita uno a uno, pareggio sostanzialmente giusto, i padroni di casa sprecano tanto in attacco e vengono puniti in chiusura di frazione inaugurale dagli ospiti a segno compatimo. Arriva nella ripresa la riscossa della Fidelis, che prima fallisce la più ghiotta delle occasioni dal dischetto con grumo, poi trova il meritato pareggio in pieno recupero con un gol di Safina. Gli andriesi dunque possono ancora sperare di qualificarsi alla fase successiva del campionato Juniores. Pari e patta anche nella stracittadina del campionato regionale lievi tra la capolista Fidelis Andria e l'Andriensis. Tanto spettacolo e tante reti, sei, tre per parte ovviamente, nel match giocato sulla terra battuta del centro sportivo Fidelis. L'Andriensis può essere logicamente soddisfatta per aver dimostrato di giocare alla pari contro la prima della classe. La capolista, allenata da Antonio Cavaliere, rimanda ancora all'appuntamento con la festa della vittoria della regular season, ma si avvicina ulteriormente al traguardo. Situazione ancora più incerta nel campionato regionale giovanissimi, alla luce delle vittorie delle prime tre in classifica nello scorso weekend. Comanda in graduatoria sempre l'Atena Barretta con un punto di vantaggio sulla Fidelis Andria e due sulla Rubese.